Ciao a tutti ragazzi e bentornati, finalmente dopo settimane e doppio mesi si torna a parlare di tariffe telefoniche, si torna a parlare di risparmio, dopo tantissimo tempo si riaccende nuovamente la miccia, speriamo che questo porti a muovere un po' il mercato nuovamente sotto questo profilo, oggi parliamo comunque di Kena e di una tariffa davvero strepitosa. Infatti hanno buttato giù una bomba incredibile, l'offerta si chiama Kena 799 Flash, ragazzi con meno di 8€, appunto 7,99€ ci offrono 70GB di internet in Italia, ovviamente 3GB di utilizzo di internet all'estero, tagliati sempre a 30MB come tutte le offerte di Kena in 4G, ma parliamo però di copertura Team, quindi una copertura davvero ottima e di 70GB di internet. Ovviamente poi ci sono SMS illimitati, chiamate illimitate verso tutti senza scatti di risposte e quant'altro e come in tutte le offerte di Kena anche in questo caso abbiamo tutto compreso, non abbiamo da disattivare servizi in abbonamento, non abbiamo costi occulti, pagherete 7,99€ e stop ed è un'offerta secondo il mio punto di vista davvero molto interessante, soprattutto perché parliamo di copertura comunque Team. L'offerta è sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero, portandolo ad esempio da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop e altri operatori virtuali come ad esempio One Mobile, BT Mobile e tantissimi altri ancora, ma vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a verificare effettivamente qual è l'operatore che potrà appunto accedere a questo tipo di tariffa. È importante poi sapere che questo piano tariffaio che questa promozione ragazzi non ha costi eccessivi, nemmeno in portabilità, pagherete la sim che potranno farvela pagare o 5-10€ in base al negozio, in base a dove andrete ad attivarla e poi il costo della promo appunto di 7,99€. Normalmente si fa una ricarica di 20€ quindi con il costo di 20€ avrete il primo mese pagato, il costo della sim e vi resterà anche qualche euro all'interno proprio della sim telefonica per il mese successivo. È una promozione secondo il mio punto di vista da tenere sott'occhio se avete voglia di farvele, avete bisogno di tanti giga, ve la consiglio perché ragazzi i 70 giga di certo non sono pochi ma soprattutto perché parliamo ripeto comunque di copertura team. Lo so benissimo che qualcuno di voi sotto tra i commenti mi scriverà ma non è per sempre come fa Iliad e avete ragione ragazzi ma se Iliad non vi prende e avete bisogno di un'alternativa questa può essere sicuramente valida invece per tutti quelli che si trovano bene con Iliad come sottoscritto ovviamente restate lì. Bene ragazzi per oggi è proprio tutto spero che questa veloce news vi sia servita eventualmente per passare ad altro operatore se avevate bisogno di tanti giga ad un prezzo secondo il mio punto di vista più che onesto appunto per quello che offre e noi ci vediamo sicuramente tra qualche giorno e se avete voglia mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima! Ciao!